Sono 5.000 giovani in oltre mezzo secolo che hanno salito le vette della Val di Fassa per vivere l'esperienza del campeggio accanto a Don Giancarlo Conte, che ha scelto di racchiudere nel volume Lassù sui Monti la lunga storia della Bianca Casa di Vigo. 50 anni da ripercorrere anche attraverso le foto, dei ragazzi, delle tante gite ed escursioni, dei momenti di preghiera, che sono state scattate negli anni e raccolte da Don Conte in una mostra che sarà allestita negli spazi della parrocchia. Per l'esattezza, Vigo sono 51 anni. Sei anni ho fatto il campeggio, l'ho inventato quando ero curato a Pianello nell'Alta Val Nure, Ferriere nei tre paesini di Brugneto, Grondone e Rompeggio. Quando eravamo lì, un giorno sono capitato in Val di Fassa per una riunione di preti delle Acli Piacentine e ho visto la casa bianca, la famosa Bianca Casa. Ho cominciato a chiedere al padrone di chi era, col tempo l'abbiamo messa a posto e poi dal 1962 siamo saliti, questa è la 51esima edizione che abbiamo fatto quest'estate. Che valore ha questo campeggio ancora adesso? Io penso che parlare con tanta gente che adesso ha 50 anni, qualcuno anche 60, di quello che hanno a Vigo basterebbe guardare il numero, perché sono tornati per tanti anni così tanti ragazzi. Siamo riusciti a dare a Vigo uno stile. Quindi adesso aspetta lei il compito di portare i ragazzi in campeggio ogni estate? Sì, mi è stato affidato questo compito che è molto bello e non mi sono mai posto il problema né del numero, né del senso della responsabilità, perché credo che quando si fanno le cose per il Signore poi ci pensa lui a darci una mano. E poi neanche mai mi sono preso paura di come gestire le cose anche di altro tipo perché ho visto che poi la provvidenza c'è sempre stata. La Susu i Monti sarà presentato domani mattina alle 12.30 in San Giuseppe Operaio.